Quindi la valutazione sarà positiva ed è condizionata dalla sceltezza di un non incremento di particolato primario e secondario nel territorio antropizzato di questa asia, già oggetto di superamento dei valori limiti normativi per il particolato, dichiarato dalle competenti strutture regionali. Lei può sottoscriverti una dichiarazione in cui lei dice che non ci sarà nessun tipo di missione. Io come garante della vostra salute dico che io sottoscrivo questo progetto perché non ci sarà nessun tipo di missione. Domanda. E cercando sempre di essere qui.